fermi tutti fermi tutti fermi tutti fermi tutti mamma mia ragazzi ma voi vi rendete conto 4 a 1 4 a 1 la roma la roma ha vinto 4 a 1 a bergamo no 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 c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va non è possibile non è possibile ma cosa scriveranno domani cosa cosa diranno quei tifosi anche youtuber anche persone che non fanno altro che sparare merda tifosi chiunque chiunque cosa scriveranno cosa diranno e oggi la roma è stata grande ma ragazzi ma ragazzi salire sul carro dopo è facile è facile dire che la roma non vincerà niente è facile perché non lo si fa da dieci anni aprire gli occhi aprire gli occhi la roma gioca male la roma fa schifo la roma di qua sveglia sveglia guardate le cose con i vostri occhi basta sparare merda su sta squadra che oggi ha vinto con un cambio soltanto perché calafiori cumbulla e chi altro è entrato alla fine non li conto un cambio ha fatto gasperini è dal 35esimo che ha iniziato a mettere murian miran ciuc malinoschi e chi più ne ha più ne metta ma di che stiamo parlando date la squadra a sto allenatore invece di rompergli i coglioni ogni santa settimana ma vergognata io dovrei essere felicissimo invece sempre qui a incazzarmi è una roba assurda è date la squadra a sto a sto povero cristo che è venuto con due coglioni così ad allenarla a roma un allenatore che ha vinto 25 trofei viene a roma e con due palle così con due palle così ma andate a cagare andate andate a cagare avete rotto con sta storia gioca male e murino sbaglia di là murino sbaglia di là ma basta ma chi siete ma chi siete ma chi siete per dar lezioni a uno che ha vinto 25 trofei in tutta la sua storia l'allenatore uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio del calcio viene qui a roma e dove stessi sentire la gente e ma murino bollino andate a cagare andate andate riuscite a farmi incazzare anche oggi abbiamo vinto 4 a 1 a bergamo una partita pazzesca la roma ha fatto una partita pazzesca ma di che stiamo parlando ma di che stiamo parlando io non ci credevo non ci credeva nessuno ma non crederci un conto ma sparare merda è un altro io non ci credevo ma manco sul 2 a 1 a fine primo tempo ci credevo ma stiamo scherzando 4 a 1 a bergamo mo mo finiamo no perché mo la roma non vince i big match tranne con l'atalanta no mo 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 è così perché mo uscirà che l'atalanta non è una big non non è un big match non è uno scontro diretto perché per la cronaca anche con la fiorentina è uno scontro diretto se poi consideriamo adesso i big match va bene vogliamo mettere solo milan inter juventus va bene allora aspettiamo quando vinceremo se la vinceremo contro queste tre squadre lì perché non se ne può più abram non segna mai li ho sentite le persone non segna mai pagato troppo e quello lì pagato troppo ma finitela ma finitela portate rispetto a mister varidoia no sono un'altra 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 roba parlare dopo è facilissimo è facilissimo e ma vigna 13 milioni ma stiamo scherzando e ma sciomura da 20 milioni ma stiamo scherzando mandate voi mandate i curriculum porca mi sia mandate i curriculum perché siete seduti su quelle sedie su quei divani a dire non va bene quello non va bene qua mandate i curriculum mandate i curriculum ma non esiste dopo sto sfogo parliamo della partita la roma ha fatto una partita perfetto il primo tempo della roma è stata una roba incredibile grinta voglia determinazione precisione concretezza qualsiasi cosa la roma nel primo tempo è stata perfetta sotto tutti in punti di vista abbiamo anche sbagliato qualche contropiede perché l'atalanta andare in vantaggio dopo un minuto è stato fondamentale fondamentale per direzionare la partita in un certo modo però l'atalanta ti lasciava delle voragini incredibili e potevamo sfruttarne anche di più è stato un primo tempo perfetto macchiato da un gol sculato di muriel muriel 8 gol in 14 partite collaro 8 gol in 14 minuti 14 particolar manco tutti col parma manco tutti col parma un gol che andava fuori di chilometri deviato da cristanti infatti è stato dato autogol ma prima ragazzi zagnolo che torna al gol che sempre ogni tanto tiene il pallone una volta di troppo deve scaricare meglio deve scaricare di più ma l'azione del secondo gol il contropiede sul secondo gol è stato meraviglioso tacco a smarcare veretù che si è rivisto finalmente il veretù che conosciamo finalmente due assist oggi anche se qualche imprecisione anche oggi l'abbiamo vista di veretù soprattutto in uscita gli appoggi sbagliati però oggi in fase offensiva abbiamo rivisto veretù abbiamo rivisto veretù l'azione del secondo gol di zagnolo è stata una roba incredibile tacco di zagnolo veretù che la ridà nell'1-2 tiene col braccio gym city lontano che oggi tra primo e secondo gol ha fatto la festa e la mette lì sul primo palo dove mussona un po niente tammi doppietta tammi è quello che non segna mai 8 o 5 pali in campionato 8 pali totali 6 gol in campionato sono 6 gol 6 gol in conference league 6 gol in campionato 6 gol in conference league abbiamo già etichettato a abram come una pippa perché perché 45 milioni non si spendono non si spendono che vuoi che sia solo vinto la champions è stato il capo cannoniere giocando mezza stagione col celsi mezza stagione col celsi 12 gol la stagione l'ultima stagione al celsi ha giocato mezza stagione ha fatto 12 gol 12 12 poi messo in panchina la tucca 12 gol aperto chiusa parentesi però è a 45 milioni manco se uscissero allora il portafoglio ma è una roba indescrivibile è una roba indescrivibile oggi le ha prese tutte tammi oggi le ha prese tutte sponde qualsiasi cosa corpo a corpo ha vinto qualsiasi cosa qualsiasi cosa primo gol bello cazzuto di forza secondo gol di precisione in stile contro la salernitana con il destro a giro secondo tempo abbiamo sofferto un pochettino di più sul 2 a 2 di zapata non lato mi son cagato sotto perché ho detto eccala eccala poi come nel 3 a 3 ricordate atalanta roma 3 a 3 la roma era avanti 3 a 0 fine primo tempo 3 a 1 fine primo tempo 3 a 1 oggi fine primo tempo 2 a 1 prendiamo sempre gol nel recupero contro l'atalanta però quel gol ha macchiato un primo tempo perfetto della roma secondo tempo la roma è calata un pochettino ma è fisiologico ragazzi non è che si può andare a miglia a rincorrere gli avversari per tutto il campo però la roma adesso avrà fatto catenaccio bla 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 no perché con l'atalanta bisogna giocare a viso aperto ok giochiamo a viso aperto con l'atalanta così ne prendiamo 8 ok questo è non si può giocare così l'avete deciso voi secondo tempo che abbiamo sofferto un pochettino anche se parate di rui patricio proprio clamorose salva risultato a parte qualche bella smanacciata su tiri dalla distanza l'ha fatto rui patricio sul gol di zapata forse poteva uscire in quell'occasione però fortunatamente è stato annullato per per fuorigioco cristante doveva farsi ammonire perché era diffidato visto che dopo sampdori abbiamo milano e juventus però vabbè vedremo magari non si fa ammonire in nessuna delle delle tre occasioni e poi molti contropiedi ragazzi anche nel secondo tempo abbiamo sbagliato un sacco di appoggi potevamo ripartire in contropiede perché l'atalanta si era messa a quattro già dal primo tempo dal trentacinquesimo lì potevano aprirsi altre praterie perché a un certo punto ha giocato con muriel zapata malinoschi miranchuk erano veramente veramente tanti quindi tu in contropiede potevi pungerli in qualsiasi modo e infatti siamo riusciti fino a fare il 3 a 1 che è stata una santa cosa con smalling che oggi mamma io smalling è il difensore centrale più forte che abbiamo lasciate i bagnets lasciate i bagnets che è diventata una roba incredibile anche mancini oggi ha giocato bene smalling è il difensore centrale più forte che abbiamo purtroppo falcidiato da infortuni oggi ha stretto i denti insieme ai bagnets hanno fatto una partita monumentale tutti e tre i centrali smalling non ha fatto giocare duvan zapata duvan zapata duvan zapata e io anche in telecronaca dalla seconda voce di da zone sentivo fare fare i lecchini all'atalanta c'è sul gol di muriel a culo che avviene con una palla allargata di atebor lunga che ilic va a recuperare quasi in rimessa laterale appoggio di mu a muriel tiro dalla distanza deviato da cristante fa la seconda voce di da zone è la qualità dell'atalanta ma la qualità di cosa un gol a culo deviato da cristante e la qualità dell'atalante e vabbè la qualità dell'atalanta dall'atalanta non si può mai parlare male mai parlare male ma l'atalanta è uno squadrone altrimenti non sarei qui ancora a godere per la vittoria contro una grande squadra come l'atalanta però c'è oggi la roma ha fatto una partita devastante devastante oggi la roma è stata concentrata dal primo all'ultimo minuto cosa che non accadeva da tantissimo tempo e ha fatto una partita di sostanza con due palle così andare a bergamo e vincere 4 a 1 è stata una roba incredibile io non ho nient'altro da dire ragazzi e mi dovete dire voi qui sotto nei commenti che partita avete visto e seguitemi su tutti i social perché oggi sono euforico incazzato e tutto quanto sempre forzare due vittorie su due due vittorie su due con questa felpe ormai cambio felpe fin quando lo trovo quella quella porta fortuna sempre forza roma ragazzi dai